Salve, qui ecco la cucina di Giacomo con una nuova ricetta Risotto con crema di zucca Ingredienti sono 400 grammi di riso 500 grammi di zucca Sedano Porro Cipolla Sale Pepe Burro di carne Olio extravergine d'oliva E vino Anche del peperoncino In una padella antiaderente Versiamo Un filino d'olio Appena l'olio raggiunge ad temperatura Raggiungiamo Il sedano, la cipolla e il porro Tutto Tagliato finemente Si cominciano a fare a rosolare Aggiungiamo la zucca Aggiungiamo il sale Aggiungiamo il sale Mettiamo un bicchiere di iro bianco Facciamo cuocere A mano che ce n'è bisogno Aggiungiamo del brodo Fatto precedentemente In modo da far cuocere Le nostre verdure Poi con un frullatore Immersione Riduciamo tutto In una crema Questa stessa crema La allunghiamo Con l'acqua E facciamo cuocere il riso Mescolando in continuazione In modo da non farlo attaccare Ed ecco pronto Velocissimo Buono Ed economico Mi raccomando Visitate la pagina facebook La cucina di Giacomo Per vedere tutte le altre ricette E mettete mi piace Grazie E alla prossima Video ricetta E alla prossima